Ragazzi oggi siamo su Roblox ma tutto quello che scriveremo prenderà vita, proprio diventerà realtà Elox Quindi ad esempio se noi scriviamo Big Chair Guarda, una sedia gigante Scrivo Super Big Chair Vediamo, oddio, ancora più grosso Ok, aspetta, vedete qua ci stanno degli aggettivi che possiamo scrivere logicamente in inglese Ma noi ve li tradurremo così almeno potete capire Quindi ad esempio, tu hai scritto Big Però se scrivo Massive Chair Ok, quello che praticamente era Umongous Sì, Umongous è proprio ancora più grande di Massive Quindi se scrivo, eh, vediamo Ok, ancora più grosso E se scrivo Colossal Oddio, vediamo Vabbè, vabbè, questa è la sedia più grossa che possiamo creare Esplosive Small Chair Come esplosive? Perché esplos... Oddio! Oddio! Non ci credo! Quindi puoi creare le cose esplosive Oddio Aspetta, quindi Colossal Explosive Chair Ed esplode... What? Marca miseria, che figata! Ok, ok, aspetta, quindi posso scrivere anche... Tipo... Sofa? Come un pesce Oddio! Guarda, un sofà! Ma ti puoi pure sedare? Ma è una cosa assurda Big... Enor... Aspetta... Big Colossal... Oddio, il sole, guarda! Ma che figata! Oh! Si può fare anche tipo che mi pare di aver visto... Wide... Weightless... Aspetta, Wide... Chair, che significa? Oddio, una sedia larga! E quindi... Toll vuol dire una sedia alta Vediamo... No, è una sedia normale Sembra che non sia cambiato niente Non so scrivere Bouncy, Bouncy... Voglio vedere Bouncy... Bouncy... Sun... Vediamo... Less... Boing, 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 boing... Guarda, una pallina che... Guarda questo pesce, non ha gravità! Oddio! Che figo! Aspetta, ma tu puoi unirle le cose secondo te? Quindi se ti possibi... Eh sì! Bouncy... Explosive... Sun... E quindi? Ah! Si funziona! Quindi ti imbalza ed esplode pure! Ma è incredibile questa cosa! Aspetta, se scrivo anche personaggi tipo Sonic... No, ok, no, peccato! Guarda, ho fatto un gatto per imbalza! Ma che cacchio! Ma cosa sto vedendo? Oddio, ragazzi, scriveteci qua sotto i commenti cosa possiamo scrivere! Perché veramente, secondo me, possiamo veramente... Ma c'è, puoi guidare pure la macchina! Aspetta, proviamo... Colossal... Car... Oddio! Oddio! Aspetta, non riesco più a muovere... Aspetta, ok... Non riesco a sederci sopra... È troppo grande! Eh, aspetta, forse attraverso la sedia ci riesci, però vediamo... Ladder! Ok, sì! Aspetta, vediamo... Io sono sopra, vediamo se però... No, però non mi fa mettere... Ho messo una scala! Aspetta, però non ti fa sedere! No! Peccato! Forse là sotto... Guarda, questo sembra un culo, questo qua! La tolgo che... Eh, aspetta, vediamo, vediamo... Aspetta, però è Big Car! Vediamo Big Car! Penso che la Big Car almeno puoi guidarla! Vediamo... Sì, ah, guarda che la Big Car sì! Oh, che figa! No, vabbè, ma questa cosa è assurda! Troppo bello questo gioco! Ok, vediamo cosa possiamo scrivere! Sempre mi ricordo sai cosa scrive il mouse! Una casa? È vero! Tipo small house? No, vabbè! Aspetta, aspetta! Office! Vediamo se scrivo office! Niente! Cacchio, ma... Vediamo! Banana! Una banana! E... Colossal banana! Quantum house! No! Eh... Aspetta, vediamo gli altri aggettivi! Ci sta... Vediamo Shiny! Eh... Shiny banana! E che cos'è che fa la Shiny banana? Non capisco! Dovrebbe brillare! Sì, sta brillando! Brilla, brilla! Ok, explosive, bouncy, light, heavy, weightless, red... Red banana! Ed è... Ed è... Ed è diventa rossa! Red lion! No, però... Cioè, il colore non funziona sempre! Black cat! Pink cat! No, non va! Forse... Guarda i gatti che cadono intanto! Ah, ok! Ah, le macchine! Secondo me dipende da cosa! Perché ad esempio i gatti hanno una loro texture! Ah... Invece se vedi la macchina è tipo tutta bianca! Ok, sì, 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 sì! Il sofà pure lo vedo bianco, quindi pink sofa! Esatto! Eh... Fridge! Un frigo! Eh... Una... Stairs! Ok, no! Eh... Vediamo cosa possiamo scrivere! Oh mio Dio! Eh... Un forno, vediamo! No, non è comparso! Ah, sì, è comparso! Che cacchio è sto cosa? Ma è un... Ma non è un... Ah! Ma è un tostapane! Un tostapane! Ma non è un forno! Eh... Vediamo... Eh... Vediamo finestra! Me la trasformo? No, non mi ho fatto niente! Eh... No, vabbè! No, vabbè! Ma è pure io! Pure io! Aspetta, aspetta! Eh... Elicopter! Elicottero! Oddio! Oddio, ma... Cioè... Ah! No, che è successo? Oh! Ho un cannone! Oddio! Come lo piloto? Come... Come vado in alto? Ma cosa hai fatto? Non lo so, l'avevo incastrato! Ma come fai ad andare in alto con l'elicottero? Ehm... Ho spazio? No, mi fa uscire fuori! Con il mouse proviamo... No, aspetta! Non va! Oh, con è! Ok, ok, ok! Sono... Oh, che figo! Uh! No, questo è cosa... Sono tuo figlio! Ma che cacchio... Ma che cacchio c'hai lì? È un mini-elicottero! Ah, mini-elicottero! Aspetta! Quindi... Ehm... 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 Aspetta, com'era l'aggettivo quello più... Colossal! Colossal... Elicopter! Oh! Ah, ok! Cliniamo! Oh, no! Cacchio! Aspetta! Colossal... Elicopter! Vediamo! Ok! Ho fatto un elicottero... Gigante! Come faccio? Oddio, aspetta! Hai ragione! Devo scrivere ladder! Ok! No, però devo metterla bene! Ladder! Ladder! Non cadere ladder! Ecco! Eh... Ok! Io tipo... Thunder... No! Adesso come faccio ad entrarci, però? No, voglio entrare dentro l'elicottero! Però non ce la faccio! Sei Tama! Oddio! Oddio! Mario funziona che cosa... No, vabbè! Ma che dici? Con i personaggi... E perché questo dico non mi è funzionato? Cacchio! Aspetta! Eh... Bu, così a Mario! Super! Super! Eh... Mario! Eh... No! Sei Tama gigante! Eh... Nintendo! Ehm... Ehm... Ah, una console! Eh... Monitor! Ehm... TV! Che è uguale a monitor! Ehm... PC niente! Gaming chair! Non è... Questo non è proprio un computer! Prob! Ehm... Vediamo... Quello rimbalza intanto Saitama! Ehm... Aspetta! Colossal Sun! Ah! Vediamo! Earth! Eh... Eh... Ok! Ah! No! Ok! Sì! È veramente la Terra! Weightless! Sun! Marte! Niente! Marte non c'è! E guarda il Sun come vola! Sun! Ciao Sun! Ciao Sun! Ciao Sun! Vediamo! Aspetta! Ehm... 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 Vediamo asilo! Che cosa mi compa? Niente! Ehm... Ehm... Vediamo... Ehm... Ehm... Andiamo un attimo, eh! Mamma mia! Ci stanno un botto di cose che possiamo scrivere! Ehm... 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 Bu... Ombra... Niente! Ehm... 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 Papà! No! Dead! No! Mamma! No! Pfff! Ma come hai fatto a... A mettere Saita? Cioè se io scrivo Saita ma me lo mette? Ma che cacchio! E quindi... Scusami un attimo! Eren! Yee! Come si scrive? Yee! Come si scrive? Er... Levi! No! Eren! Eren Yee... 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 Come si scrive? Yee... Yee... Eh buh! Non mi ricordo! Niente! Ehm... Vediamo altre cose normali! Eh! Minion! Pff! Ha! Ma che è funzionato! Sbrizer! Posso scrivere Sbrizer? No! No! Non fans! Youtube! PewDiePie! PewDiePie non c'è! Ehm... 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 Monstro! Ehm... Oh! Monster! Scusami un attimo! Niente! No! Ehm... Pistol! No! Non posso tipo avere... No! Il treno neanche me lo fa piazzare comunque! Oh! Ehm... Poi? Una palla! Ehm... Ehm... Una nave! Oh! E beh! Aspetta! Però puoi mettere pure il mare! No! Peccato! E questa è come la guidi? Non... Non credo in seguiti! E beh! Direi pure io! Ehm... Vediamo! Ehm... Bouncy bot! Robot! Ehm! No! Vabbè! Fighissimo! No! Aspetta! 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 Fai tipo... Com'era scritto? Way... Ehm... Senza peso! Weightless bot! Voglio... Voglio salirci! Aspetta! Ladder! Di nuovo! Ehm... Ladder! 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 Oh oh! Mi sa che l'ho inconficcata proprio dentro là! Oh oh! Mannaggia! Mannaggia! È un po'... Un po' rotta questa barchetta! Aspetta che salgo! Ok! Andiamo! Ma tu che figato! Guardami! Oh! Sembra una macchina volante! Ma? Un doggo! Aspetta! Starship! Mi hai quasi investito il doggo! Ehm... Tip normale? Car... Ehm... Shopping cart! Niente! Ehm... 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 Oh! Un mercato fatto! Guarda! Salve! Posso poter sedermi? No! Non posso sedermi! Oh! Ah! Ah! No! Non ci sono gli esplosivi! Cioè puoi mettere le cose esplosive! Ehm... Beard! Parrot! Vediamo se posso fare i pappagalli! Dai! Non hanno aggiunto i pappagalli! Lion! No! Ehm... Eevee Ball! Niente! Eevee Ball! E quindi non si sposta proprio di zero! C'è Light Ball! Ehm... Aspetta un attimo! Ah cacchio! Però se ci sarebbe un modo magari... Aspetta! Aspetta! Giusto! Eevee Ball! Guarda come va! Mamma mia! Ok! Sentivo ad esempio io faccio che metto una Eevee Car qua! Ok! Sì c'è più lento! E poi metto una Eevee Ball che scende verso la Eevee Car! Cosa accade? Se ci riesco! Among Us! Vabbè quella era sicuro... Oh! Guarda! Ma? Guarda la macchina! Guarda si sta girando da sola! Oddio! Among Us! Vabbè dai! Però... Cioè veramente questo gioco è figo però dovrebbe raggiungere delle cose secondo me eh! Evolver! Ehm... Gaming... Setup! No! Ehm... Ehm... Aspetta laptop! Laptop dai per forza me lo devo mettere! Eh infatti almeno questo! Ok! E rocket! L'oppa! Oddio! Lo sapevo io! Lo sapevo che l'avrebbero messo! Oh aspetta! Ehm... Pomni! No! Ehm... 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 Ehm...